Ciao, io sono Menga a s m r questo è il mio canale sei sempre il benvenuto o la benvenuta oggi vi porto sul mio letto non si vedrà nulla e ho i capelli gialli perchè nella mia camera da letto ho tutte luci gialle perchè mi piacciono di più in realtà in tutta casa ho luci gialle ma qui di sotto particolarmente ed essendo tutto sui toni del nero oggi avrò questa congiuntura super yellow comunque scherzi a parte anzi sono scherzata cosi a parte scusatemi se è un pochino che non vedete video in italiano ma ho fatto un video in rumeno l'ultimo che è uscito venerdì si venerdì e anche a loro ho detto che purtroppo è un periodo che con il lavoro sono un po' sotto pressione perchè c'è tanto lavoro e quindi sto facendo tanti turni e questo mi porta diciamo a fare veramente tantissime cose quindi non riesco ad incastrare bene famiglia amici e video e tutto quindi piuttosto che girare video un po' così alla buona preferisco saltarne qualcuno e niente ci tenevo a dirvelo non volevo nascondervi nulla il video di oggi sarà un video try on con Shane per chi non lo sa collaboro con Shane ormai da mesi se non sbaglio da novembre circa e la promozione che c'è sul loro sito è la promozione primaverile quindi ho avuto l'occasione di scegliere tanti capi primaverili possiamo dire così era veramente pieno di vestitini super super carini ma io sapevo già che non li avrei presi perchè non indosso vestitini quindi era inutile prendere cose che sapevo già a priori che non avrei messo ecco quindi nulla possiamo iniziare dal primo prodotto allora il primo capo che vi mostro e che è l'unico di cui non ho il video perchè non lo trovo più sotto che l'ho messo quando l'ho girato quindi presumo che vi lascerò una fotografia qui da qualche parte è una t-shirt a strisce molto carina in realtà era nella sezione uomo però mi piaceva veramente tantissimo perchè tutto ciò che è a strisce mi piace veramente veramente tanto e quindi ho deciso di prenderla e vi lascerò da qualche parte penso proprio qui davanti alla mia faccia la fotografia è super carina rimane oversize un pochino e mi piace tantissimo in realtà penso sia uno degli haul che ho apprezzato veramente un sacco e sto mettendo questi vestiti praticamente sempre devo dire una cosa che è un dettaglio ma penso sia stato un dettaglio non voluto che l'haul prevedeva 10 capi ma me ne sono arrivati 9 quindi uno non mi è arrivato non ho detto niente all'azienda perchè comunque alla fine mi sono stati regalati quindi non volevo che mi inviassero magari solo un oggetto così quindi ho preferito non dire niente ma era semplicemente una maglietta a maniche lunghe con le spalle scoperte e c'era tipo un buco possiamo dire di qua e di là nelle spalle ed è l'unica che non mi è arrivata se no il resto è arrivato tutto quindi niente procediamo con il secondo articolo il secondo articolo ve lo metto insieme al terzo quindi vedrete in un unico video entrambi i prodotti sono dei pantaloni a vita alta di un tessuto leggero e super comodo e penso che siano uno dei pantaloni che mi stanno in realtà meglio in assoluto sono fatti veramente bene e le prendono le curve nella maniera migliore possibile e sono ceglioli per questo sto guardando sono bellissimi perchè ci sono dei girasoli che intretutto per chi non lo sapesse è il mio fiore preferito quindi se ci sono dei girasoli bellissimi sulla trama di tutto il pantalone ma solo nella parte davanti perchè la parte dietro è semplicemente beige ed è mua e l'ho abbinato ad una camicetta che è sempre anche quella mi è stata inviata da Shane è una camicia verde militare possiamo dire così un pochino diciamo larga comoda ha questi bottoni marroni deliziosi mi piace veramente tanto da abbinare sia in realtà anche con questi pantaloni ma anche con jeans ha un tessuto non pesante proprio primaverile quindi opto anche per portarla magari la sera in estate o comunque quando non è troppo freddo sapete che ci sono quei giorni che non è né freddo né caldo e magari con una t-shirt è troppo caldo cioè troppo freddo e con una filpa è troppo caldo ed è perfetta per questa tipologia di di tempo primaverile ecco ora possiamo passare ad altri due prodotti e vi li metto sempre nello stesso video sì, nello stesso video stavo pensando se erano insieme e sono una tuta nera con due strisce da una parte e dall'altra che passano insomma dal fondo schiena fino alle gambe fino ai piedi e l'altro articolo invece è una filpa con questa trama diciamo non mi ricordo mai come si chiama però come potete vedere anche dal video c'è un po' di lilla mischiato al bianco che fa questo effetto sfumato c'è un termine proprio specifico e lo trovate anche all'interno del sito dove trovate insomma tutti i vestiti quella tipologia ma non mi viene il nome comunque sì c'è questa tuta che ho provato e che sto indossando anche ora e mi piace veramente tanto è comoda devo dire che sì è proprio primaverile perché non è troppo pesante ma non è nemmeno troppo leggera in realtà di quelle tute diciamo fatte male invece questa proprio è fatta bene è fatta veramente bene non so quanto si vedrà sì a parte i miei calzettini vedete questa è la parte della striscia ma già l'avete vista anche nel video e la filpa è anche carinissima e la filpa è veramente leggera non è una filpa pesante è proprio leggera e niente mi piace veramente tanto sono prodotti super super fatti bene e sì mi piace tanto ma perché l'ho scelta io quindi fondamentalmente mi piace mi piace tanto anche per forza e ok ora passiamo a una t-shirt questa l'ho presa ho deciso di regalarla a un mio amico perché pensavo che gli sarebbe stata assolutamente bene infatti vedrete il video e tono ci stai guardando questo video ciao è bianca molto semplice però diciamo che non è nemmeno banale che ho scontata è fatta molto bene il tessuto è morbido è piacevole è una cosa che apprezzo di molti tessuti di shine che hanno questi tessuti super 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 piacevoli e questo permette insomma di apprezzare ancora di più il prodotto ecco non non generalizzo perché sicuramente alcuni prodotti che hanno anche un budget irrisorio magari sono fatti con meno cucura ecco invece questi per lo meno che ho scelto io sono stati tutti fatti veramente bene e uno di questi è anche questa felpa che sto indossando ora che in realtà è un top una felpa top però è abbastanza lunghetta non è proprio tagliata ecco fa sta dritta mi arriva sotto l'ombelico ma rimane comunque corta perché quando la alzi le braccia la rimane corta ha la particolarità di avere questa bombatura ma vi metterò anche il video qui così la vedete meglio anche questa è stra carina e se non sbaglio l'ho presa dalla sezione non mi ricordo se si chiama premio 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 o elite una cosa del genere e sono capi a cui danno ancora più diciamo sono fatti ancora meglio rispetto agli altri con più cura se possiamo dirlo così ed è fatta veramente veramente bene il tessuto è super morbido e ha queste maniche appunto palloncino che mi piacciono tantissimo anche questa ho già sfruttato l'ho messa a fare volte anche per skateare perché comunque ancora non è molto caldo quindi la porto abbastanza bene ecco l'ho abbinata insieme alla diciamo polo che mi sto per far vedere ora che anche questa è dalla sezione uomo credo se non erro credo proprio di sì l'ho presa però in una misura molto piccola in effetti è proprio piccola ma perché la volevo così e mi fa comodo anche da mettere all'interno magari dei jeans a vita alta come sapete io adoro le cose oversize però con i pantaloni a vita alta preferisco quelle un pochino più strette perché così non mi danno fastidio anche mentre skate o comunque non sono troppo lunghe ecco quindi vedrete sicuramente la polo nel video e l'ho abbinata un giorno allo skate park con questa felpa quindi ho messo la polo di sotto da qua dalla parte sotto scendevano le striscioline insomma come vedete fatta strisce una parte e qua nella parte alta ha fatto uscire il colletto quindi era super delizioso tipo quindi ero contentissima di aver preso questi articoli che non credevo di abbinare ma in realtà ci stavano molto molto bene molto molto bene ok ora l'ultimo prodotto se non erro è il prodotto è il prodotto diciamo un po' flop ma non flop perchè perchè non allora capiamoci era segnato nella parte donna come una sorta di vestitino era una polo marrone un vestitino era molto lunga in realtà nell'immagine la modella l'aveva abbinata dei pantaloni a palazzo abbastanza larghi e quindi veniva questo stile un po' classico elegante perchè no e mi piaceva mi piaceva mio marito l'ha vista e ha detto ma cavolo ma è enorme e in effetti era grandissima fa ma la voglio io mi piace tanto mi piace tanto dai prendila per me quindi come vedete noi scambiamo cioè non ci frega se i vestiti sono nella parte donna uomo se ci piacciono li prendiamo sempre quindi lui la vede questa polo e dice dai la prendo il punto è che quando è arrivata era veramente enorme ragazzi ma ha un livello di enorme esagerato quasi e quindi se la metterà con alcuni vestiti perchè non è fattibile con tutto cioè da portare tutti i giorni è veramente grande vi lascerò sicuramente qua il video magari se l'avete già visto se non lo vedete ora e è carina ma dovete avere diciamo un po' di coraggio per metterla per carità è un capo che sicuramente porterà ma non sfrutterà tanto quindi per questo lo chiamo flop perchè di solito io tutto ciò che prendo so che sono cose che metterò sempre infatti tutto ciò che ho acquistato finito l'ho sempre messo e non sono prodotti che che insomma non non mi convincevano o perlomeno quelli che con il tempo visto che magari non sfruttavo tanto li ho regalati a qualcuno alle mie amiche o così via magari a qualcuno mi piaceva qualcosa e e quindi così per il resto sono tutti i vestiti che metto che e quindi per questo l'ho definito flop ma non perchè fosse brutto o perchè fosse andato cioè non lo so ecco avete capito presumo e nulla ragazzi io credo che i capi siano terminati non farei sbagliarmi perchè in questo momento non ce li ho in mente nel caso io mi mi stessi sbagliando ve li lascerò qui alla fine del video o durante insomma in qualche modo li vedrete tranquilli tutti i prodotti li trovate qua giù nell'info box con i rispettivi codici quindi potete andare tranquillamente a cercarli e vi lascio anche il codice sconto che di cui potete usufruire ve lo lascio sempre scritto qua sotto o qua sopra da qualche parte e fondamentalmente abbiamo vinto grazie di essere stati qui con me e grazie anche del supporto e dei bei messaggi che mi mandate tutti i giorni sia in privato sia qua nei commenti grazie perché guardate i miei video ricordatevi sempre che mi fa tanto piacere anche un semplice mi piace al video perché aiuta in qualche modo il canale a crescere e comunque da gioia perché capisco che avete speso un pochino di tempo in più cliccando su quel pollicione e e so che il video comunque vi è piaciuto ne sono sicura ovviamente e nulla io vi auguro tanto 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 riposo relax tanta pace la buona nanna la buona nanna sogni sogni di Toro 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 Tor Sì, no?